Ciao ragazzi, benvenuti nel secondo video del mio canale di disegni di P-Art. Oggi disegnerò uno dei comici più amati da sempre. Sto parlando di Checco Zalone. Godetevi il video, iscrivetevi e lasciate like. E mi raccomando, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.